La fretta? Beh, quel cliente a parte trovare tutte le eccellenze che come potete aver visto dalla frutta, i formaggi, i salumi, la carne, il grande banco del pesce, panetteria, gastronomia fatta da noi, fatta con la cucina E insegnate anche a cucinare? Beh, attualmente sì, cominciamo a fare dei corsi sia di cucina ma anche di degustazione vini Ieri sera nel centro Aiz c'erano tutti, dai ristoratori ai produttori di vino Alla presentazione della guida Magniar Ben Best Gourmet, 600 pagine in grado di segnalare le eccellenze in uno dei territori più coinvolgenti al mondo in fatto di enogastronomia e ristorazione Il Veneto non solo terra da vino ma attore principale in questo angolo di paradiso Una bella raccolta che valorizza la nostra agricoltura, la produzione tipica Sono 350 prodotti tipici, prodotti da 160.000 magnifiche aziende agricole che fatturano circa 6 miliardi di euro, questo è l'agroalimentare del Veneto Grazie a tutti